Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli, lo sanno tutti perché il nostro canale non è più visibile ai follower. YouTube non suggerisce più i nostri video agli spettatori, stiamo affrontando alcuni problemi tecnici, pertanto vi chiediamo di supportare il canale durante questo periodo premendo il pulsante Mi piace per questo video, affinché questo video possa essere mostrato al maggior numero possibile di persone, grazie. Quindi, come vi ho confermato nel video precedente, il maltempo e la pioggia torneranno in Italia a partire da domani sera, martedì 21 novembre 2023. La pioggia inizierà nelle regioni del centro nord d'Italia per poi raggiungere l'estremo sud, nelle prime ore del mattino di mercoledì 22 novembre. Di conseguenza domani sera, martedì, piogge molto forti su Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, piogge su varie zone di Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Sardegna. Si avverte il rischio di alluvioni improvvise, soprattutto nella regione Marche, Emilia, Romagna, Toscana. Mercoledì mattina forti piogge raggiungeranno Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna. continuerà a diminuire fortemente nel resto delle aree precedentemente menzionate. Qualsiasi altra notizia importante proveremo ad aggiornarvi più tardi.